Io credo che, non so con quale scadenza, con quale tempistica, ma il sistema basato sul dollaro uscirà sconfitto, non sconfitto, comparirà nel prossimo futuro. Anche perché, come diceva giustamente Siniscalco, ormai il compito delle banche centrali, i tassi li hanno portati a zero o sotto zero, non è che possono fare altro sui tassi. La liquidità ne hanno immessa finché volevano, che è così. Le banche centrali, sostanzialmente, non vedo che abbiano delle grandi possibilità di agire. Possono dare dei messaggi che possono avere un'influenza sull'andamento dei mercati, di quei messaggi che ha dato la Lagarde sull'andamento negativo dell'economia per un lungo periodo, sulla disoccupazione per un lungo periodo. Io credo che la moneta vincente sarà derivata dal blockchain e quindi tutte le monete, le criptovalute, in particolare il bitcoin, penso che sono destinati a una valorizzazione di cui noi non abbiamo neanche ancora un'idea. Io penso che abbiamo visto quest'anno il bitcoin negli ultimi sei mesi aumentare il valore del 50%, ma io non sarei stupito di vedere nel giro di sei mesi un raddoppio del valore del bitcoin. Io penso che in questo senso è chiaro che così come le banche commerciali, per esempio G.P. Morgan si sta attrezzando per poter storare, cioè custodire e trattare dei bitcoin, che non sono più un fatto addetti ai lavori, ma sono un fenomeno molto più diffuso, anche come importanza complessiva della massa di valore. Così penso che le banche centrali non si possano disinteressare del fenomeno. Quindi poiché abbiano caratteristiche diverse, perché in genere la banca centrale cerca di emettere eventualmente una criptovaluta per controllare. L'emetto della criptovaluta di per sé è una cosa non controllabile. Non controllabile, soprattutto è controllata da un algoritmo, non da una banca centrale. Roberto Sommella, Fed e banca centrale cinese hanno intrapreso già ben prima il percorso che porta all'adozione di una moneta digitale. Questo vuol dire che noi europei siamo già in ritardo, anche su questo? Io penso che la necessità di battere moneta digitale per le banche centrali e quindi per la banca centrale europea sia dettata dal semplice fatto che non solo c'è una concorrenza di bitcoin, ma soprattutto c'è Libra, la moneta digitale di Facebook, che è il paese più grande del mondo, che consta a 2 miliardi e 200 milioni di persone e di utenti. Se un domani Facebook dovesse inventarsi un sistema di pagamento con la sua moneta, avrebbe 2 miliardi e 200 milioni di utenti consumatori. Quindi è un modo per le banche centrali di stare al passo coi tempi, considerando che però bitcoin invece è una moneta digitale, ma non è una moneta vera, di cui si conoscono pochissimi meccanismi, viene utilizzata molto spesso per scopi criminali. Abbiamo raccontato su MF Milano Finanza di Campari che è stata attaccata dagli hacker e sapete in che cosa si sono voluti far pagare il riscatto? In bitcoin. Quindi attenzione, finché le banche centrali non mettono fuori legge tutte le altre monete e esprimono la loro moneta digitale, il tema ci sarà. Poi detto questo, la politica monetaria è un conto. Quello che accade nel mondo, il caos, l'aumento delle disuguaglianze, l'aumento delle povertà, che il denaro sia a zero, sotto zero, e che ci sia la moneta digitale importa ben poco. Noi abbiamo adesso di fronte una situazione secondo me molto grave, in cui più di tanto la politica monetaria non può fare, perché la politica monetaria è fatta per chi ha i soldi, ma chi non ce li ha, che ci sia il tasso a zero, non gli importa proprio nulla. O fai l'elicopter money, cioè glieli dai. Siniscalco può cambiare la testa anche De Benedetti, De Benedetti e poi Siniscalco, prego. No, perché se sono pieno di debiti, la politica monetaria mi può essere conto. Ah, se sei indebitato sì, se sei indebitato. Arrivarci ad essere indebitato. De Benedetti, prego. No, volevo solo far notare a sommella che Libra è una cosa completamente diversa da Bitcoin. Libra è un mix, è una sintesi di diverse valute, di diverse valute esistenti, quindi non ha niente a che vedere con una moneta digitale. Mentre Bitcoin è il risultato di un algoritmo che ha in sé il limite della quantità che può essere creata. Io sono due cose che non hanno nulla a che vedere una con l'altra. Beh, io non sono d'accordo perché... No, è così, è così, si informi. No, no, ma io lo so, non mi devo informare, però è di fatto un sistema di pagamento che ha Facebook. È un sistema di pagamento di cui sappiamo poco, tant'è che è stata... Sì, con me la sottolinea il mercato, l'elorme mercato su cui si può sviluppare. Sinceramente... De Benedetti però parla, è tutt'altra cosa a livello proprio formale, nel senso una moneta... Ma qua non stiamo parlando di technicalities, sto dicendo che è una grande azienda digitale, la più grande azienda ha coniato una moneta di pagamento, un sistema di pagamento, che peraltro ha sede in Svizzera e che evidentemente farà concorrenza con gli altri sistemi di pagamento, questo è indubbio. De Benedetti, prego. Sì, ma non ha niente a che vedere con le monete digitali. Libra non è una moneta digitale, è una sintesi di dollaro, euro, yen, franco-svizzero e così via. Pound e così via. Diciamo che è un paniere di pagamento, ma serve per pagare, come dicevo. Passiamo...